Il caso Nomadi sembra arrivato a una svolta che vede l'amministrazione comunale impegnata in un dialogo con i presidenti dei quartieri per ascoltare i problemi ma anche e soprattutto per vagliare insieme le possibili soluzioni. Ci troviamo di fronte a una famiglia di bassanesi perché sono cittadini bassanesi. Adesso ho convocato per domani sera una riunione con l'intercomitato dei quartieri e i presidenti dei quartieri Pre e San Lazzaro per trovare una soluzione condivisa. Noi oggi dobbiamo trovare una soluzione di buonsenso in quanto c'è una famiglia con dei minori quindi non possiamo assolutamente lasciarli per strada senza i servizi basilari e quindi penso che tra persone di buonsenso troveremo la soluzione più opportuna perché non basta dire non li voglio da me, meglio metterli in un altro quartiere. La soluzione deve essere condivisa. Parola d'ordine dunque è condivisione e verrebbe da dire un passo in avanti rispetto al passato quando il problema è stato tollerato per oltre un anno e mezzo. Intanto il sindaco Nicola Finco depenna quella che ha detta di qualcuno sembrava poter essere un'opzione portare i nomadi nell'ex caserma Fincato. La caserma Fincato è una progettualità insomma che sta avanzando quindi una progettualità che riguarda il sociale quindi con la realizzazione del market solidale ma anche con appartamenti protetti e poi c'è l'idea di realizzare il polo della protezione civile quindi è un'area che un po' alla volta deve essere sistemata e è una delle porte d'ingresso della città quindi anche gli attuali nomadi che oggi che non sono nomadi ma sono dei giostrai prossimamente saranno trasferiti. Quindi vuol dire che quella è un'area che va completamente riqualificata e quindi non troveranno spazi né i nomadi né i giostrai in futuro.